buongiorno buongiorno allora volevo una canzone sottofondo cerchiamo la carina allora ragazzi non ci stiamo si ci piace come si sente ci sarà un pochino di euro devo capire se si sente sennò devo modificare qualcosa nelle trasmissioni 171,6 ora voglio andare qui mannaggia alle pera l'iphone cheese come si sente non si sente ma cosa devo fare della mia vita pure brutta troveremo un modo per farla sentire stiamo a mille e due oggi si livella come tartaruga ninja i carichi giornalieri potenzialmente stavo leggendo i carichi brutta 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 perché ho subito sempre questo è brutto oddio oddio che strano oddio mio ma questo non è una roba ma perchè stava tirando quello che vuole intendo che c'è un quarto se non un decimo se non un non lo so che devo fare non so stavo vedendo gli incarichi non so fare i giornalieri apri forciare al santuario potenziarmi visita a quattro luoghi in una sola partita visita a quattro luoghi in una sola partita credo pure un neonato di un mese basta 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 per favore buschetto bisunto ci prendiamo un quadro andiamo subito lì dove dai 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 così ci facciamo subito ehm 61 mila ah no raga staventino ha fatto il livello siamo a livello 18 difatti ehm quad 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 stanno qui dove stanno qui quad di n ragazzi ci hanno abbandonato tutti di vita e di vita annaccio armando allora ragazzi fuggiamo e mi sta tenendo in cacca iiii no zio fate una fatta una vita fatela 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 100 oh oh no mettiamo parti reali quindi non ci dovrebbe essere il proprio eletto ehm è un'altra città è non ci dovrebbe essere il è un'altra città è un'altra città un'altra città è un'altra città se non gli ho a distruttere un muso a questo e si tocca la yarda cioè io mi sono fatto un inventario per una partita che potrebbe essere molto destinata a vincere a questo livello è successo giuro che ora trovo un'arma sbocco perchè io parlo se posso vedere perchè io parlo c'è una vita brutta ehi non ti sta mica mettendo il lubrificante ehi oddio mio raga va bene più gente mi scrive vediamo un attimino vediamo just any moment zio non ti ho dato il permesso a sperarmi quindi vai a dormire allora perchè la mia macchina è tarocca mannaggia a pippo il popote l'ippopotamo se non in questa direzione dovrebbero essere condotti 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 francesi scusa allora dai via invitiamolo che vorremmo vorremmo un po' fare quella coppola ehm anzi non lo vedo che sparo dopo si deve sparare perchè sparate a me ci stanno altri 31 30 players dovevamo sparare io e te perchè dovete sparare a me ma gli altri 30 players prendi 8 players potremmo dire la stessa cosa però no andiamo qui su raga immaginate se prenderò danno da da caduta sarei già morto 30 volte un'altra mappa cioè un'altra mappa la quindicesima mappa ma l'avevo scoperto lì no l'avevo scoperto no l'avevo scoperto in effetti in zona però comunque ci mancano solamente le coste ehm così ci dà pure l'obiettivo mi sembra che dovrebbe dare un obiettivo che tipo dice scopri tutta la mappa questo video all'inizio del capitolo dovrebbe dare non credi in ogni stagione ma in ogni capitolo si grazie per i quindicimila di esperienza poi l'avvio c'è stato stato giusto no l'avvio c'è stato giusto ok ero chi doveva c'è adesso qui la scopriamo qui no quanto bevevo raghi immaginate ma io sono proprio solo sono un ghepardo cosa sono eh sono un ghepardo ragazzi 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 i ghepardi non vanno no raga sembra le coltivazioni cioè potremmo molto probabilmente se le coltivazioni di questo prego eh per l'idea no no tempio tombolone come è non è cariche sto chiedendo andate ehhhh eeeh tutututututututututu dartawanna non mi piace 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 almeno tutta la mappa ci entra la orezzo ehhh perchè ehhh 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 scopri blender tu si amirà cactus e io tu te posso? ma se vorrei che ci sarà stato credo ok ok ho già me ne punti di riferimento e molto comune Alla Io Alla 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 morta molto utile ho visto ma non è l'otto mh 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 No, 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 no. Non c'è un materiale, non c'è un bel cactus. Allora, dobbiamo danneggere l'avversario con un attacco in mischia. Allora, danneggere l'avversario con un attacco in mischia. Danneggere l'avversario con un attacco in mischia. Il mio treno è gratis. Non c'è un billet. Non c'è un billet. il biglietto, non co... non co... è gratis il biglietto raga comunque... hanno capito che... ce ne sono che scrivo allora, se non me lo fai vedere immediatamente stacco la testa quando si fa questo attacco da mischia? in mischia è andata? ma va a dormiiiir bisogna piccolare danneggia eventualmente... si raga 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 è il zio sfgg gioco e allora tenendo premuto il tasto teoricamente impostazioni versione no utilizzo le opzioni avanzate si mira assistita dovrebbe esatto scivola ripara c'è un gato l'oltre meno fatti guarda guarda che deve essere accocciato perchè non mi fa accocciare ah 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 io raga io io il gioco il gioco e io quanto c'è e faccio venti di ping e mi lagga si può sapere il perchè poi ci prendiamo pure il male di nebbia quanti danni devo fare mi sa pure 50 quindi basta che faccio così appunto perchè così guardate ogni quanto si può fare raga mi sa ogni 15 secondi ora vi faccio vedere il mio bottino di guarda cioè l'assalto che ho qui dentro fa un pochetto schifo resto ho pagato pure un bel po' per tenermi il coso perchè per avere una cosa ma perchè me lo fai fare ah è vero quindi io eventualmente potrei curare pure gli avversari allora invitiamo uno noi invitiamo due e invitiamo tre ok ah io mi invito ma ma non mi interessa non prendo due assalti da prendere pure una jump di marano un giochino non ci farebbe male una gamba però però se il gioco non ce lo vuole dare un giochino noi 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 ne stiamo bene eia eia ti ho non lo so io che vuoi fare contro le mk7 eia tra quello mitico ti scioglio peggio del della cosa della stracciatella nooo schifo questo eeeh affanzo che ho visto una cesta caro mio amico te mi sa tanto che eri un bel bottazzo eh mi sa tanto eeeh lasciamo nooo eeeh si però ma le stracci non le devo capire non mette ero pure e appunto lasciamo un qui possiamo andare a scoprire eeeh ah qua dovessi andare a scoprire tutta sta zona no dove sei no dove sei no si si ma what non è no cosa ho visto la caga ma si rimpiccioliva ma ma cosa sto vedendo in questo mondo ma ma di qua i uccelli si rimpiccioliscono e scampagliano scampagliano musica e il resto scampaglia musica e il resto scampaglia na 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 raga una canzone così hai scopri paolino fanfarone e tu sei un fanfar new level thanks a lot ma perché ho rotto una ruota ma quanto è una rocina scusatemi no perché così così per chiedere un'informazione così tanto perché si però non è che gira molto bene no certo quindi mi avevo da scoprire ancora non l'ho fatto il livello e io quanto tempo è venuto a scoprire qui io devo andare per l'inforzo ma io devo andare per l'inforzo non so se ci riesco se è libero di un momento ora si può scoppiamo molto c'era pure c'era pure arrivato cioè era andato pure una volta erano pure andato una volta qui residenza rocciosa sì era molto carino mi ricordo che era molto carino questa cosa è la stella è stata un amico ci manca uno e due parti della mappa da scoprire adesso ci dà quello ma non sta meglio quel come si ora mi esce uno che mi fa una guata raga vizio che l'ho fatto allora raga allora raga ehi tutti i mitraglietti danno qua andiamo qui vicino al volcana alle pendici dell'etna tanto va veloce su sto cosi va che la no 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 stavo no no amica 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 mi ha messo il freno a mano un caricatore ha fatto 400 direttamente tolta dalla faccia della corsa eh quanto si è troppo ricchi non gli piace non ci piacciono nemmeno eh no poi sei anche se preferisco che raga proprio dovrei fare una di quelle provate eh mamma mia che non mi dava il danno avrei spruccato se non mi sarebbe ma io l'italiano non so parlare grande amico raga comunque l'aggiornamento ieri c'è stato un aggiornamento segreto non mi hanno sentito eh questo no cos'era così che ce la traguardiamo in un modo bello bello eh qui sopra allora la salina mmm mmm ci chiediamo chi apre quell'altro ci si vede una cifra se ancora in 12 la mamma mia da di me non siamo insieme non siamo insieme sento le mosche sento le mosche posso sapere sento le mosche ah non ce la fa sempre la scivolata basta 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 allora Ok, dai, su! Ok, però, un minimo di poverture. Pronto, gnomo. E se ti fermi, quello è il tuo problema. Non ci fermi, non ci fermi. Che cosa stai scopendo? Ehm, non ci fermi. Non ci fermi. Non ci fermi. Non ci fermi, non ci fermi. Non ci fermi. Non ci fermi, non ci fermi. lì 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 allora montagna però come lo faccio sempre mo che ho capito qual è il tasto che quello che sbagliavo io lo faccio in dolore ma io posso posso sapere se tu eri nabu secondo me sì così qui 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 ok vabbè raga c'ho giocato malissimo c'è un bel pompa ah quanta gente c'era dietro cambiamo pompa c'è obbligatoriamente da cambiare pompa raga c'è non si può c'è non si può quando dico non si può mi mi ma siamo a sei qualcuno che viene a giocare insieme a noi allora ishi mi ce l'ha mi da la skin del nab ragazzi si è buggato fortnite zio dammi che errore però bannezza peca e oggi abbandonati al nostro destino delta one felici danni con fucile pesante un avversario 20 proprio regalati in salato che incarico metterci eh anche tutti incarichi pira stiamo mangiando completa tagli di posizio tavoledeggendo posizione 10 18 di 30 basta camperare quello loro 30 12 partite bella bisantuccia eh anzi ok crea oggetti distruggi alberi proprio contro il vvf eliminazioni ringrazio la testa dell'autobus non consuma oggetti raccolti non è già avversari di sugi strutture avversari accogli materiali 10.000 usa band e o medici tanto con la faccia abita veux scherzo infligi danni ho un avversario con un punto un po io vorrei scoprire tutta la mappa però nemmeno ringrazio ma quanto sono genio racconto secondo me avete sciopato per favore per favore per favore ah rafael rafael per favore per favore metti gruppo pubblico eh metti gruppo pubblico il pubblico eh no no per favore per favore ah cosa io lo siamo dai per favore per favore ho lasciato la colonna della vittoria io gioco con un amico io gioco con un amico raga cosa benedetto da norcia devo fare mi piace mi piace ma giochi sempre con un amico mi piace mi piace mi piace mi piace adesso ci ci in partita a 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 c a c bravo strada nota quando non sapete cosa rispondere allora 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 e allora e continuamente a posso sapere perché di questo motivo ora scendo io mi arrabbio raga quante volte ero online no ditelo perché così raga vorrei sapere un vostro giudizio su quante volte delle molteplici volte che ero allora allora non interessa niente io non interessa niente non c'è pure lo spazio no ma le puoi tornare no sono bravo sento pazzi roba strana guarda però fissile pesanti ce l'abbiamo venti 56 volentieri io la sfida non più è stato uno con il pompa bravo vedete c'è sinfonia io sto facendo che si incarichi per un graffito ragazzi fa tanto sto schifo sto pompa prima ci sono morto come un nabbo esplode la macchina però ci dovrebbero essere esattamente quanto sono carico bravo in realtà Babbo Natale non ha le rende ma ha i quad al posto delle rende con la benzina elettrici sono sicché mi arrabbio quando mi arrabbio fino a scoprire questa mappa troviamoci il dente il dente dalla bocca un quad non distrugge una tenda no superstite non distrugge sti raga io chiedo se mi sto divertendo e questo è il vostro quesito problemi? mi diverto una bella jump che potremmo utilizzare per andare in lena e io sei davvero due bot raga io li ho distrutto con due colpi mi fai perdere tempo mi fai perdere tempo mi fai perdere tempo mi fai distrutto in mezzo secondo e andare a scoprirla questo non si potrà guidare e scopriamo tutta la mappa al giro con uno capito? e scopriamo tutta la mappa al giro con uno capito? ho detto scopo ma io cosa ho fatto precisamente male nella mia vita? non l'ho preso e scopriamo tutta la mappa al giro con una e scopriamo tutta la mappa al giro con uno capito? piccoli domenica mente ma io il 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 gioco un attimo allora se c'è un nemico cosa si sa nel fracca allora dobbiamo sgranchirci un pochino la dita la dita che fa non te la sgranchisci ho avviato troppe richieste scusa allora raccogli cimeli di trasciabal trasciabal allora io ho chiesto gentilmente di ok ok la sera è una giornata speciale non mi ricordo come farà vabbè vabbè di che trash stiamo parlando di che trash no no ragazzi è bello questo colletto io me lo invio a me stesso lo posso inviare a me stesso allora massi video ah mi tolgo l'amicizia ma tanta cosa serve prendi l'ora i video di una volta i semplici allora spendi l'ingotto ma siamo livello quasi 200 qui si cagliata in un livello in un modo dai dai ok basta tenere prima ho avuto il più no il terza l'era flest l'antrici tutto l'antico spittare citero di gas tutto l'ordata po ti amo da guidarlo comunque sto amato benissimo direi di partire da lì ci faccio tutto il gire portata lì prendiamo lì prendiamo lì prendiamo lì prendiamo lì e sono di un'organizzazione lo vedete tutta questa qualità da dove la vedete ma ti ho giusto ok se qualcuno viene qui tappo le braccia adesso come no ragazzi non sapete cosa che è aclantide squalangi dragon arbo scappiamo non mi dice pure il nome adesso è brutta staglia qui ci sarà ovviamente la solita industria che scarica del mare io comunque se squalo tu sei un pazzo manico tra nulla te la vuoi fare una vita? bella e buona? si se è buono brutto uccellaccio da quattro soldi ragora mi ammazzano morto giù is very easy giù no quasi squalo noi oriamo passiamoci sopra ok nuovo scalo looper ok le casette di fudo ok non è dato non è dato per cavolo ho scoperto tutta la mappa adesso è scoperto mi sa che non è scoperto ora ci vengono le paranoi che non è scoperto mi sa calore non non so ragazzi mi ammazzisce dobbiamo trascere tutta la mappa ma che ci frega raga no dai no 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 io l'ho aiutato on the face oh è stati fermo sì è una cab però qui dentro no ehi dai capo aspetta 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 troppa vita vera la sessantesima eliminazione della stazione raga raga non lo so potrebbe darsi il premio scopri tutta la mappa si è sentito il premio scopri tutta la mappa ma sentito mistruggi struttura boschetto blazerante raga se ha entrato lo chiamo si è pizzi 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 aiii c'ha altre opzioni sussurra il telefono scarico da pizzi pizzi e sussurra sussurra daragat certo che se non pag 사 giuro che asi ancora Maine for 필is 2015 iarrabia iari tutti 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 non ho ben capito quanto vale una stanghetta che ha seguito ma sbattacchietti ammazzo dio ma non è che è un altro campi c'è anche qualche schiena di più che schiena cosa servono sblocca un costume questo è una completa di confe vedere la tutta mia con 60 livelli di fare per sbloccare c'è non so che non risponderà quando si chiara bene cioè raga è entrato e ha tolto quattro trenta e lingotti 5 giorni 5 giorni esco cosa si saranno inventati cose allora sto giocando con un nemico non posso managgia il portic allora io mi arrivo a quella no quella non è un'isola poi no questa è un'isola potrebbe essere la rivolta non posso non posso 100 miliardi di esperienza di tenere premuto se non c'è per accettare per accettare di tenere premuto il tasto no no ma non è quello no raga mi sa che è scura così dimmi che non l'ho scoperto l'ho scoperto cento per cento ma raga non è sempre lì la nave gira intorno al mare però non è scoperta raga vabbè raga intorno ci stanno più pesci non lo so dove non è qui dove andate comincio a scoperta non nemmeno ho parato la cosa in me non parla vivo scoperta perca non andano niente assegniamoci ragazzi assegniamoci la cosa questo dove andrà così di pesce sono destinati pistola secondaria significa il pesce è ma tirò no ma niente da quanta roba pesa qua signora pistola però mi piace ti aspetto qui sono dei protetto mi chiamavano il fissermen ehm che sarà che non sarà allora allora prendiamoci no raga non si possono guidare mi sa dai 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 si possono guidare perchè non si può perchè non si possono guidare le macchine non si può pagarla non lo sapete che dovremmo mettere tipo se tu paghi una certa roba con i risotti ti tolgono le ganache raga vi immaginate che figo giuro che vi stacco la testa allora ne distruggo uno ne distruggo non morite perchè perchè non me lo siete mai fatta o no non 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 esatto vincono decisivata veramente le luci le luci che sto facendo sono un pazzo ma lo sapete ora come ci ammazzano in un modo altro lo pitagone chi mi dice niente che si torna a mandare di nardi chi mi dice niente che si torna a mandare di nardi chi ti si torna a mandare di nardi quanto costruisci Ok, ma che armi c'ha? Eh raga, non capisco niente Ma che armi? No, scusate raga C'ha i guanti di coso Ma li hanno giunti allora? No, vabbè raga Ma hanno giunti quanti? Mamma mia Raga, devo diffondere ste notizie Che mamma raffa Ma diciamoglielo Hanno giunti i guanti Ma che se lo aspettavo Risponde Grazie a tutti Andiamo subito lì E andiamo Oddio, dov'era? Deposito truciolo Campococcoli mi sa che si acquistavano Mi sa che si Mi sa che i campococcoli si acquistavano Dove si prendono i guanti di l'uomo ragno? Su Fortnite Raga, mi raccomando Dividilo a tutti Che qui si Diverte Quattro giorni fa Non quattro giorni fa Ma li hanno giunti veramente Oh raga, o era un bug No raga Non lo so Vigilato 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 Non lo so Perché Ci ne aveva quello Avete visto Vigilato Vigilato Oggi Sì Dove però fissare qui raga queste qua queste città qua dove c'è un npc teoricamente perché se ho fatto sta scoperta io prima da il battaglio posso vediamo che c'è salutiamo no del reviewer e c'è una vicenda dignità dov'è zia pippa zia pippa zia pippa eccola qui eccola qui eccola qui eccola qui eccola qui ora corri 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 andiamo 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 raga si corre si corre senza sosta li vendi? lei non li vende e dove si prendono allora? e quella la come faceva da averli? dove la la chi arrabbiamento raga qui dentro guarda che arrabbiatura però qui sarà ci stanno 30 perchè fate che le davamo? niente raga 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 va scoperto questo mito oppure raga 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 è non mi piace ci fiamm che ti dico una cosa che qui credo che fa esplodere l'eseru non la gente bug epic no io non voglio il bug quello che è uscito su tiktok che riuscirono tutte le parti ragava chiamato ok npc qui no 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 ora ora mi potresti far unire un attimo non ti posso dire qui non so se no allora qui se qui non è dove potrebbe essere vicino a dove sono morto shara eccolo la che ho beccato per favore allora raga sicuro lui veniva dalla c'è un cuore sempre preciso raga.h o li hanno aggiunti però nessuno lo sa Raga ma c'aveva i guanti Come ha fatto Come ha fatto Come ha fatto Raga l'altro giorno Ho visto un video di Che lei provava in quella giornata In un'ora Che Erano usciti Cioè raga Rai niente ha fatto quello che mi ha fatto a me Quello che prima Uno mi ha fatto a me Per favore Per favore Per favore Per favore Ragazzi muoiamo Intanto Con dubito pure qui L'ha ammazzato quello Ma vatì va Ciao Ora Fia Mi sa che hanno aggiunti quanti Hanno aggiunti Ma dove si trovano Allora Vai Aspetta ti mando la foto Della mappa No perchè a me Uno mi ha appena ammazzato così Pensavo che era Che Li aveva trovati con un bug No 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 Aspetta Allora In alto in alto A sinistra Ok Ah quindi il sopra deposito Trusciolanda Si C'è un ponte E Ci sono tre punti In cui lo puoi trovare Ok Per non la lobby Dove ho trovato tutti e tre Tutti e tre Voglio provare E Quello in cui si trova di più È davanti Appenente nel ponte No perchè Ho detto Ma questo qui Si è a un bug Buono Lo so Qualcosa del genere C'è Perché ho detto Ma Come è possibile Che Hanno già Hanno aggiunto i guanti Senza che nessuno lo sapesse Ok Avere Facciamo sette a Natale Sì Ora Provali a provare Sono fighissimi Ma infatti Ma hanno Utilizzi Mi sa Eh Raffi Eh Hanno Gli utilizzi Sì Hanno Tanta colpi Guarda che Sono tantissimi Sembrano pochi Ma sono tantissimi Guarda Appunto Allora Mettiamo Questo Mettiamo Una copertura Bianca Quindi si trovano Sopra nel ponte A campo Trusciolanda Sì Sevelli Le trovi Ah quindi Proprio il ponte A fianco Sì Ok Cioè ma spawnano Oppure ti li compri Da un NPC Eh no no Spawnano lì Cioè spawnano tipo Come i poteri di Venom Come fate Ma come fate Già stare a livello 21 E a livello 32 Eh 32 secondo me Si è scioppato I livelli Ne dubito fortemente Che sta a livello 32 Legit Chiamiamo l'assistente 00x Allora vabbè Si è spulso Un mio amico Chi ha Ma sei Allora Vediamo 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 Aspetta Tu Dove Lì Lì Ah qui Sleepy sound Dio Ma Pergogna Verrà come ci fiam Oh Patry Ti volevo dire Solo una cosa Anzi due parole Ti volevo dire Ti volevo dire Due parole Guanti Di Spiderman No Veramente Sì Le hanno aggiunti Nella mappa Ah Poi ho giocato Poi ho giocato pure Con Raffael Stavamo parlando E mi ha spulso Dal gruppo Mamma mia Raffael Non è niente Te lo giuro E poi Lui mi ha detto Ti hai spulso Un mio amico E io Gli volevo scrivere Perché non mi hai Rinvitato Io non ho giocato No Raffael Lui mi ha scritto Ti hai spulso Un mio amico Lui mi ha scritto Io gli volevo scrivere Perché non mi hai Rinvitato Bah Vabbè Proprio scandaloso Vabbè ciao Padre se giochiamo domani Campione Sono già che adesso Ok Ciao Va bene Ciao 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 C'è da diffondere Questa notizia Va Diffusa come 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 l'acqua Ma Come si va a vedere Dove Spauda Ne Chi Perché Perché Raga Mi si sono disconnessi Le cuffie Raga Mi si sono disconnesse Le cuffie Non ho Non ho ben capito Quello che è successo Ok Raga Tutti qui Ora Ma come si fa a vedere Dove si fa Madonna Santa Allora Ma come si fa Ma io Cioè Io allora Cioè Da Di Corri Lì 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 Allora Dove Trovare Quanti Aspetta Facciamo così Va Avete Il più conveniente Andare in laboratorio Perché Sennò Qui È Impossibile Andiamo in laboratorio Un attimino La meccanica Più a spasso Andiamo in laboratorio E c'è da capire un attimino La meccanica La meccanica Di guanti Detto Ci fa sponare Qui sopra Corri Al centro Allora Vediamo come l'hanno gestito Ah Uguale Quale sarebbe Anima Scusate 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 Signore di Epic Potreste sistemarlo Grazie Gentili Allora C'è da provare Adanna Campo Trucciolo Raga Dobbiamo riuscirci C'è sotto ogni ponti Della mappa Quanti ponti Quanti ponti A Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette O Otto Nove Dieci Più o meno Dieci Ponti Ma Su Una zona Molto vasta L'unica Che Scusate Amica Non ti ha scusso Un mio amico Sì Ero 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 Ci prendiamo La Lamborghini Ero 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 Un Barbecue Barbecue Raga è davvero ingestibile Eh raga Ok è qui Raga dobbiamo girare un pochino tutti i ponti Ho capito come funziona più che altro C'è da capire un attimo questo mercato Anicheon Eh a parte Sì ma qui spawn hanno sempre due lama La mamma mia Allora dove spawna Si può capire Stanno vedendo da noccia Come si trova Come si trova Che ragazzi Che ragazzi C'è i guanti Dice Quanti Dice no Qui Qui Abbiamo costatato che non ci sono Sì Allora Ragazzi Troviamo i guanti Dice no Ragazzi Si corre Dove si corre Accanto Quindi Se si pone qui Qui Ragazzi andiamo Cerchiamo di capire Si 30 lama si trovano Deposti Deposti tutt'ruciolanda Da 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 Dove vengo Da Dove vengo Di Pertutto Detto Dietro Sotto No Capit Com'è qui Lugo Non rompere in questo momento Proprio Un'ultimo del problema Allora Tutututututututututututututututututututututu Come funzionano questi quanti benedetti? Allora... Allora si trovano questi quanti benedetti No! Sanna quando mi rimane questo è pianto Allora, eia, eia C'è da per lustrare Come si fa? È il primo pensiero che sorge Cioè si trova nelle certe Non si trova nelle certe Ha una rarità Non ha una rarità Cosa... Come si fa? Allora... Come si fa? Come si fa? Come si fa? No! Come si fa? Allora... 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 La roba di te, tra l'altro è sede. Robo, sotto, sotto, che cosa c'è? Dunque, bravo, lui è qui, io mi arrendi. Lui lo sapremo domani. Domani mi troviamo là. Mi faccio spiegare meglio, ci andiamo. Ci arriviamo, non puoi notare. Andiamo di qua. Andate alle strade, tu! Allora. 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 Allora raga Se può capire lo stesso Starei Tutti i punti Allora Allora raga Allora Questo No, raga, abbiamo sbottato tutti i caricatori Raga, non c'è già domani che non riesco a live il video